Iniziativa solidare del raggruppamento sicilio-occidentale dell'esercito che ha donato generi alimentari e beni di prima necessità all'istituto santuario signore della città di Caltanissetta. I beni consegnati dai militari di stanze in città nell'operazione strade sicure saranno destinati a favore di bambini e ragazzi affidati alla congregazione delle suore francescane del signore. Un segno di solidarietà nei confronti dei ragazzi meno fortunati che rafforza il regame, la vicinanza e l'integrazione con la popolazione locale e il personale militare impegnato nell'operazione strade sicure.